si fa la quadratura della giacca naturalmente poi la spiegazione di tutto il taglio verrà sul libro sul libro ci sarà tutto il taglio dal pantalone, la giacca, il gilet, il capote, tutto quindi adesso è venuto a spiegare come vengono le misure allora, altezza vita, lunghezza giacca abbassamento giro quindi, ora, facciamo solo Grazie a tutti. 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 Ecco, questo è il dietro. Grazie a tutti. 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 Ecco, ecco, ecco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.